bravo bravo bravissimo per favore un video di questo fai il video ok piano non dai manca luce dove è la luce? no so she pulls it apart and then lightly twists it but when I tried doing it and I rolled it in my hands they said not to do that ok mille grazie we have too much oil on my hands no c'è come uno più ma puoi fare un altro tu? mette con l'olio mette l'olio mette l'olio andiamo che ora facciamo questa colla lì poi ce ne state dai per questo? per troppo per troppo per me si caccia il boccaccio mette l'altro boccaccio ecco bravo grazie per il vino per il vino per il vino per il vino per i ragazzi ah che bravo yeee e fai così